Qual è l'arteria poplitea? Un'arteria è un tipo di vaso sanguigno responsabile nel trasporto di sangue ossigenato dal cuore e nella sua distribuzione a vari tessuti del corpo. L'arteria poplitea è un vaso sanguigno situato dietro il ginocchio. Insieme ai suoi numerosi rami, fornisce il rifornimento di sangue alle articolazioni del ginocchio e ai muscoli del polpaccio e della coscia. L'arteria poplitea è situata profondamente, rendendo spesso difficile sentirsi con la mano. Come l'arteria femorale, che proviene dalla parte superiore della coscia, entra nello spazio nella parte posteriore del ginocchio, chiamata fossa poplitea, diventa l'arteria poplitea. Dalla fossa poplitea, si divide in molti rami per distribuire il sangue nell'aria intorno al ginocchio. Quando lascia la fossa poplitea, si divide in due arterie l'arteria tibiale posteriore e l'arteria tibiale anteriore fornendo flusso sanguigno alla parte inferiore della gamba e del piede. La vena poplitea corre parallela all'arteria poplitea e riporta sangue ossigenato al cuore. Lesioni, danni o occlusione dell'arteria poplitea possono causare il blocco parziale o completo del flusso sanguigno alla parte inferiore della gamba e del piede, con conseguenti difficoltà a camminare. I sintomi di diminuzione del flusso di sangue nella parte inferiore della gamba spesso includono dolore e riposo durante la deambulazione e la cancrena. La cancrena è la morte dei tessuti, rendendo la pelle nera e maleodorante e, se non trattata precocemente, può richiedere l'amputazione dell'arte inferiore. Alcuni problemi che possono verificarsi in questa arteria sono un aneurisma dell'arteria poplitea, PAA, e la sindrome da intrappolamento dell'arteria poplitea, PAES. Sono comunemente visti nella popolazione anziana, nei fumatori e negli individui con malattie cardiache e diabete. Un PAA è un indebolimento della parete dell'arteria nel ginocchio, causando la razione dell'arteria. I pazienti con PAA di solito avvertono sensazioni di formicolio nella parte inferiore delle gambe. La maggior parte dei PAA si verifica in entrambe le gambe e spesso sono associati ad aneurisma dell'aorta addominale. PAES si verifica a causa della relazione anatomica dell'arteria con i muscoli del polpaccio. Poiché l'arteria poplitea è situata tra le due teste del gastrocnemio, o muscoli del polpaccio, qualsiasi anomalia nei muscoli del polpaccio può comprimere l'arteria. Gli individui che soffrono di PAE sono solitamente maschi giovani, sani e atletici. I sintomi comprendono dolore al polpaccio e intorpidimento del piede durante la deambulazione.